Un aspetto che per lungo tempo è rimasto celato nelle lotte contro il capitalismo è stato quello della distruzione che esso opera e del mondo animale e dell'ambiente. Molto spesso infatti tradizionalmente si è lottato e non senza buone ragioni contro il modo capitalistico della produzione in ragione del fatto che esso produceva e produce fisiologicamente sfruttamento dell'uomo, alienazione, reificazione e da un certo punto di vista, per citare i manoscritti economico-filosofici di Marx del 1844, il modo della produzione che tutto riconduce al rango delle cose e che perciò stesso snatura l'uomo come ente naturale generico. Non sarebbe infatti coerente con la natura umana essere ridotti a merce, essere coartati a esistere nell'orizzonte unico dello scambio e della produzione di merci. Per questo il capitalismo, secondo l'intuizione del giovane Marx, poi destinato a rimanere sullo sfondo delle sue riflessioni che pure non la obblieranno mai, ebbene per Marx la natura umana viene ingiuriata, offesa, mortificata dal modo capitalistico della produzione. Il concetto di alienazione, entfremdung, che vuol dire letteralmente straniamento, diventare stranieri a se stessi, mette a tema puntualmente quest'opera di distruzione dell'umano che il capitalismo produce strutturalmente nella misura in cui tutto riconduce al rango delle cose, ivi compreso l'uomo, che diventa cosa fra cose. Ebbene, accanto a questo aspetto che è pure centrale per una critica demistificante del capitalismo, non bisogna trascurare anche il fatto che il capitalismo riconduce al rango di cose anche l'ambiente circostante e il mondo animale. Il mondo animale storicamente non ha voce in capitolo, non ha la possibilità di protestare né di organizzarsi in forme di indocidità ragionata. Il mondo animale subisce la mercificazione e lo sfruttamento capitalistici senza avere la possibilità concreta di forme di antagonismo, tese a superare, a trascendere il modo capitalistico della produzione. Vi è ancora una volta un passo molto evocativo di Marx, tratto dal capitale, nel quale Marx nota come nel Medioevo l'animale era parte della casa, era lo strumento muto che serviva alla riproduzione domestica. Nel mondo moderno diventa invece, con l'avvento del modo capitalistico della produzione, una macchina da lavoro. Marx cita testualmente la figura cartesiana della bat machine, l'animale macchina. L'animale nella modernità manifatturiera non è più un essere di famiglia, diciamo così, ma diventa semplicemente una sorta di macchina tra le tante. Ebbene, il capitalismo, a maggior ragione oggi, pensiamo agli allevamenti di massa, pensiamo al modo in cui vengono trattati gli animali prodotti in batteria per essere consumati e inseriti nel ciclo della produzione capitalistica. Ebbene, se ne può legittimamente inferire la conseguenza per cui il capitalismo offende il mondo animale, non meno di quello umano. E disumano e al tempo stesso nemico del mondo animale. Ecco perché occorre oggi abbracciare una causa animalista che non sia però sconnessa dalla più generale causa anticapitalista, proprio in ragione del fatto che il capitalismo per sua natura offende l'essente nella sua dimensione totale. Da questo punto di vista, oltre che a Marx e a Heidegger che occorre riferirsi. E merito in perituro di Heidegger aver mostrato che la tecnica, che forse potremmo meglio comprendere come tecnocapitalismo, è per sua essenza nemica dell'essente. Aggredisce l'essente nella misura in cui lo considera fondo disponibile per l'illimitata volontà di potenza soggettiva e perciò stesso riduce l'essente, in ogni sua declinazione, a puro fondo che può essere manipolato illimitatamente. Questa è la cifra dell'essente pensato nel tempo della tecnica come compimento della metafisica e dunque come compimento dell'oblio dell'essere, se ci poniamo ancora sulle orme di Heidegger. L'ambiente stesso in questa prospettiva, alla stregua dell'essente nel suo complesso, diventa fondo disponibile per la crescita illimitata, diventa il piano su cui la tecnica capitalistica può esercitare la sua volontà di potenza illimitata, riducendo dunque l'ambiente da casa dell'uomo e dell'animale e del vivente, a semplice luogo di esercizio della volontà di potenza illimitata, tesa alla crescita infinita. Sta qui la contraddizione concretissima del capitale. Il suo essere per essenza vocazione all'infinito, per sua essenza il capitalismo, è aspirazione alla crescita infinita in un mondo, in un ecosistema che è strutturalmente finito. È una contraddizione ontologica fondamentale. La crescita infinita su un piano esistente finito, con annessa riduzione dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente a puro fondo disponibile, sfruttabile illimitatamente in vista del processo autoreferenziale, nichilistico, irrelato di crescita illimitata. Ecco perché, a mio giudizio, occorre oggi sostenere e abbracciare la causa animale, la causa ambientale, ricongiungendole e riannodandole però con una più generale critica oppositiva al fanatismo economico pudicamente chiamato globalizzazione. Occorre oggi abbracciare l'anticapitalismo come voce unificante tutti i singoli aneliti di protesta. L'animalismo, l'ambientalismo, tutte le mille forme disperse nel villaggio globale, nei suoi spazi infiniti, debbono oggi ricongiungersi in un'unica voce che protesta in maniera univoca contro il sistema capitalistico della produzione, quale forma di violenza e aggressione all'essente in generale.